buongiorno donna meravigliosa e uomo meraviglioso se stai guardando anche tu quanta luce c'è nel mondo tutto attorno e quanta luce c'è dentro ciascuno di noi tantissima però molto spesso questa luce viene oscurata da tutti i pensieri dalle preoccupazioni che abbiamo dentro di noi e che sono tante per ciascuna di noi perché sia essere donna ma anche essere uomo prevede tanta responsabilità e la prima responsabilità che oggi ti voglio trasmettere ed è la responsabilità più importante è quella di amare te stessa ed essere felice per te stessa anzitutto te lo ripeterò fino allo sfinimento perché è un concetto che deve entrare molto bene nella tua mente nel tuo cuore in tutto il tuo corpo fisico energetico e spirituale bene ti parlo spesso della natura come grande maestra di vita forse l'unica grande maestra che abbiamo veramente tutto il resto ciò che è scritto ciò che è detto viene preso da quello che viene osservato nella natura attorno a noi e nella natura dentro noi come ci insegna la filosofia orientale le antiche filosofie del buddismo dello zen e anche le altre filosofie ancestrali così è fuori così è dentro così è nel macro e così è nel micro noi in quanto esseri umani siamo degli animali un po strani sì perché ci facciamo tanti problemi in più rispetto agli animali ma siamo comunque animali e dobbiamo imparare a coesistere in equilibrio con tutto ciò che c'è attorno a noi questo è possibile solo se coesistiamo in equilibrio con ciò che è dentro di noi e questo è possibile quando c'è una profonda e reale conoscenza dei meccanismi che muovono la mente umana le emozioni umani e il corpo umano quindi un tutt'uno corpo mente spirito energia e materialità corpo pregno corpo denso materiale e corpo sottile sensibile bene oggi ti voglio parlare del perché la natura è una grande maestra e del perché te la proporrò in tantissimi modi in tutte le pratiche che farà insieme a me sia nei video che diffondo gratuitamente sia nei percorsi di coaching che tengo nella mia women academy la natura è una grande maestra perché tutto coesiste in perfetto equilibrio all'interno della natura e così anche noi siamo parte di essa solo che ci ribelliamo e quindi in questa ribellione in questo distaccarci dalla natura fuori ci siamo distaccati dalla natura che è dentro di noi per questo la ricerca dentro di sé è veramente sempre più importante lo è sempre stata però a maggior ragione al giorno d'oggi in cui viviamo molto connessi con questi dispositivi che sto utilizzando anch'io e che sono meravigliosi perché ci tengono in contatto con tutto il resto del mondo però abbiamo perso l'intima connessione la connessione più potente quella con il nostro intuito con l'intuito naturale che ci è stato donato dalla madre natura dall'universo chiamala come vuoi quindi ti invito a fermarti per qualche istante a chiudere gli occhi a sederti ad allungare la colonna vertebrale e semplicemente essere in ascolto in ascolto di quello che c'è così come fa la natura la natura sta con quello che c'è e nello stare con quello che c'è si rigenera si distrugge si evolve nei cicli della vita e va avanti così da millenni ancora prima che noi esseri umani comparissimo su questo piccolo pianeta terra che veramente una navicella spaziale grande così rispetto a un universo immenso infinito e che non c'è neanche dato di conoscere razionalmente lo possiamo solo intuire lo possiamo solo intuire se chiudiamo gli occhi e osserviamo dentro di noi perché dentro di noi è quel grande universo quel grande universo in equilibrio che sa ciò che bene che per noi e che ci porta le esperienze di cui abbiamo bisogno per crescere ed evolvere ecco oggi la mia goccia di consapevolezza per te è di stare in ascolto di quello che c'è dentro di te e attorno a te e di riconnetterti con il tuo intuito naturale con la luce che ti guida dentro con la tua luce guida e per fare questo ti propongo anche una pratica molto riattivante ed energizzante e anche divertente che è danzare e se riesci a farlo nella natura ancora meglio ora adesso io qua non ho la musica ma ho la musica dentro di me e quindi ti stimolo a seguire i miei movimenti e poi a lasciarti andare in un flusso libero di movimenti sei pronta o sei pronto per la natural dance evolutiva bene guarda che lo so che qualcuno di voi che sta guardando dice sì vabbè adesso guardo lei che balla però non mi metto in gioco no negativo ti devi alzare alza il culo dalla sedia o dal divano dove sei e danza danzati e goditi questo corpo che smuove tutta l'energia che smuove emozioni queste emozioni questa energia in movimento e alla fine ti potrai godere la riconnessione con te stessa o con te stesso nel libero flusso dell'energia del sentire l'energia che scorre ti potrai sedere ti potrai sbagliare e potrai stare semplicemente in ascolto di quello che c'è con questa natural dance evolutiva quindi ti porto a scaricare tutto il peso che ti senti addosso e a lasciare andare buona pratica mi tolgo il mala questo bellissimo mala di quarzo rosa e ametista e vamos con la natural dance evolutiva poi magari ti svelo la musica che ho in mente e magari la metto anche nel montaggio vediamo come viene iniziamo con dei movimenti dolci e sciogliamo dolcemente la colonna vertebrale bene posizionati a piedi paralleli sotto le anche in tadasana la posizione della montagna urvastasana la montagna estesa fa il pieno di gioia di vita e di luce e ora risveglio del girassone vado giù vado giù e scarico tutto a te inspiro srotolo la colonna mi apro alla vita faccio il pieno di luce scendo espirando c'è anche un'ape che è venuta a trovarci non so se arriva nel video e l'ultima volta rimango su in urvastasana la montagna estesa mani unite scendono a livello del cuore e lascio andare e bene iniziamo dolcemente a muovere ancora la colonna vertebrale e adesso ti condurrò nei passi i piedi sono sempre ben radicati a terra ok adesso ti sei un po' riscaldata e iniziamo forse è meglio che mi tolgo gli orecchini perché con gli airpods sbattacchiano e si sente tutto bene continua con i passettini laterali e senti il ritmo dentro te dai un'onda con la testa e le spalle bene bene Rilassiamo il respiro, torniamo nel flow della colonna. Rilassiamo la colonna vertebrale, qualche cerchio col bacino, spirali fluide. Andiamo giù in malasana, faccio un gran plié, infilo i gomiti all'interno delle ginocchia, mani unite, schiena allungata, respiri profondi. Goditi il flusso dell'energia, delle emozioni che si sono smosse con questa piccola natural dance evolutiva. Senti il tuo corpo potente, sano, vitale, gioioso, che risponde ai tuoi comandi. Lascio la posizione, appoggio le mani, chiudo i piedi e srotolando torno su, risveglio del giro a sole, inspiro, scendo, lascio andare, scarico nella terra e salgo. Montagna estesa e grazie. Wow, che bello! Come è andata? Fammi sapere nei commenti qua sotto come è andata, come sta adesso il tuo corpo, come ti sei sentita o sentito all'interno della natural dance evolutiva. E adesso rilassati, sdraiati, oppure siediti, ma se vuoi sdraiati shavasana a terra e goditi questo flusso di emozioni. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, un cuoricino, un abbraccio, insomma, un bel commento anche e diffondilo fra tutte le tue amiche perché il mio intento è quello di creare una grande community di donne meravigliose, di donne guerriere della luce in tutto il mondo, a partire dall'Italia perché in Italia abbiamo tantissimo da dare con la nostra bella energia artistica e nutriente anche alle altre sorelle in tutto il mondo. E quindi se anche tu vuoi fare parte di questa community e entrare a far parte della mia Women Academy per l'empowerment al femminile contattami attraverso i commenti oppure un messaggio privato o via email, puoi anche andare sul mio sito www.melissamattiusi.it su YouTube, sui miei social per vedere tanti altri materiali utili per il tuo empowerment femminile, per il tuo potenziamento come donna per ottenere più forza, determinazione, armonia e anche un po' di leggerezza in più nel corpo, nella mente, nell'energia Grazie Stay powerful